Volevo parlare un attimo dell'Inter, l'aveva accennato anche il buon Sabatini, dato che comunque ha ripreso e riconquistato la vetta della classifica, io la definisco un po' una squadra umorale se vogliamo, nel senso che vedo una squadra che se le cose vanno bene allora da 4-5 gol a tutti, se le cose vanno un pochino meno bene magari si scompone un po'. E la cosa che ho notato è che secondo me l'Inter quest'anno si è approcciato un po' alla Serie A in modo molto blando, cioè proprio con la superficialità di dire noi quest'anno possiamo andare veramente con un filo di gas, gestircela perché poi il cambio di ritmo, è vero che la prima partita contro la Real Sociedad l'hanno sofferta molto perché è una squadra che veniva giocare a tutto campo e lì insomma c'era stato un po' di turnover paradossalmente l'Inter con la partita l'ha sofferta molto, tant'è che non meritava secondo me di portare a casa il pareggio. Invece contro il Benfica c'è stato un cambio di ritmo spaventoso con una partita superlativa e quindi non lo so, io vedo una squadra nettamente più forte delle altre nella Rosa con un allenatore che ormai ha totalmente in mano tutto l'ambiente ma una squadra che forse se devo vedere il treno d'Achille è un po' questa superficialità, questo senso di rilassatezza. Anche l'altra sera sono serviti tre cambi, tre cambi di grande qualità per poter cambiare una partita che fino a quel momento oltre a essere stata molto brutta era stata non dico dominata dal Torino. Però se nel primo tempo ci sono state un paio di occasioni sono state del Torino piuttosto che dell'Inter e secondo me anche l'ultimo pareggio dell'Inter in casa contro il Bologna è perché Vieni dalla partita contro il Benfica, fai i primi 20 minuti su quella falsa riga, vai subito 2-0 con un super gol di Lautaro, sono le tre del pomeriggio, è ottobre ma ci sono 40 gradi, sei a San Siro, sei già in festa e Lautaro ti commette un giro in tacca lamorosa che riapre la partita e da lì ecco che parte un po' il filone della partita fuori binario che secondo me l'Inter ancora un pochino soffre. Quindi dici arroganza, un po' di presunzione nell'atteggiamento dell'Inter che si chiede superiore? Io più che arroganza e presunzione vedo piuttosto superficialità dettata da una consapevolezza eccessiva dei propri mezzi che non è tanto, te l'ho un po' rigirata nel senso che la puoi chiamare un pochino presunzione se vogliamo però non è che la fa vedere palleggiandoti facendo dei colpi di tacco, te la fa vedere con mancanza di cattiveria che secondo me è un po' diverso, cioè non è quella presunzione lì, non è quell'arroganza lì è un po' di superficialità, cioè è più che altro mancanza di cattiveria con questo intendo la differenza. Su questo sono d'accordo, è parso anche a me e anche un po' scherzosamente ti dico che ho una mia amica interista che mi dice capisci, dopo le partite mi dice capisci perché si chiama pazza Inter perché ogni tanto va su, ogni tanto va giù, tu non capisci, quindi sì quello che hai detto assolutamente è vero e lo ritrovo. Io anche mi ritrovo in questa visione, credo che possa essere anche un tema un po' annoso in questi ultimi anni, cioè sulla tenuta mentale che sa dare Inzaghi durante le partite del campionato. Io mi aspetto che da questo punto di vista ci possa essere un plus nell'interpretazione proprio della gara di alcune partite in cui l'Inter invece ha lasciato dei punti importanti sia lo scorso anno ma anche due anni prima. Io voglio sparare una provocazione, nel senso che io mi aspetto a breve frattesi titolare e spoiler, non sarà Mkhitaryan a lasciargli il posto. Cioè mi aspetto che ci possa essere una possibilità di vedere un centrocampo titolare per una partita, per due partite, Mkhitaryan frattesi per testare quanto l'Inter possa ancora di più mettere in difficoltà le difese avversarie perché io l'Inter difensivamente la vedo bene. Sommer è vero che ha fatto delle buone parate con il Torino, il Torino non è la squadra che crea di più in Serie A però se vuoi anche con il Bologna c'è l'errore sicuramente nel gol di Zirze perché si può dire quello che si vuole di quel gol sicuramente è bravo Zirze l'attenzione dei difensori sicuramente però in tre si esce uno sulla palla, è la base e se non lo fai c'è un errore. Però a parte questo io l'Inter la vedo molto solida difensivamente e la vedo davvero preparata ad attaccare quando ha il pallone. Cioè vedo i movimenti di Mkhitaryan dentro il campo, vedo il supporto della mezzala sempre al quinto, vedo un quinto che è costantemente sulla linea degli attaccanti vedo Turam che svaria e Lautaro che quando arriva la palla dentro l'area sa quello che deve fare quindi l'Inter praticamente è pronta se vuoi, allora Barella è un equilibratore perché comunque ti serve quando hai tutte queste cose che funzionano anche Cialanoglu però se metti dentro frattesi per me rischi veramente che i primi 30 minuti di una partita anche per intensità per potenzialità delle mezze ali che porti in avanti con i quinti diventi una squadra che è super moderna nel modo di attaccare cioè il City l'anno scorso, 5 sulla stessa linea e ne lasciava 2 in costruzione mi aspetto che l'Inter addirittura possa portare 6 o magari di Marco dentro ma comunque 5 davanti il Girona che adesso è primo in Liga gioca così, gioca con 5 costantemente sulla stessa linea con le due mezzali che stanno sulla linea dell'attaccante secondo me se metti dentro frattesi puoi vedere questo step in più tattico ma forse è un mio fetish tattico così che lo voglio vedere Inzaghi vorrebbe, cioè Inzaghi non vede l'ora però tornando anche un po' il discorso di prima di Ken sta forse pagando un po' il nome sì, il nome di Barella ma anche Ken non può soffrire il nome di Vlauic esatto, appunto, quindi è praticamente la stessa identica cosa cioè lui soffre sia il nome suo Ken che quello di Vlauic cioè se è il doppio invece frattesi no, frattesi solo quello di Vlauic frattesi soffre solo, esatto perché vedendo quali sono le prestazioni di Mkhitaryan è oggi insostituibile vedendo l'inizio di stagione con performance un po' sotto gli standard di Barella e vedendo come terzo punto come entra frattesi e come ti cambia l'intensità della partita frattesi e tu fai uno più uno e dici ok se da una parte c'è uno che è insostituibile e dall'altra che è uno un pochino in calo e il suo sostituto tutte le volte che entra mi spacca la partita e me la cambia in positivo però sai, io sono uno che per quanto tifo Juve cioè Barella non me lo devi toccare e sono anche sicuro che non appena verrà magari messo da parte perché magari succederà, no? perché magari va a fare questo ritocco anche solo a mo' di test o anche solo per punzecchiare e svigliare anche Barella che per tanti anni, meritatamente, si è conquistato comunque il posto da superficie titolare io sono convinto che lui avrà una reazione della serie fratello il mezzo destro è occupato il centro-destra è occupato punta un altro ruolo, punta da un'altra parte perché di qua non ci si sta ci strastà, ci strastà sono d'accordo con quello che dici forse può essere anche una mossa in quel senso la mia era veramente una... cioè, hai visto come Spalletti ha usato Frattesi con l'Inghilterra? giocava 4-4-2 esatto quando è in non possesso 4-4-2 con Frattesi che stava a fianco a Scamacca e si occupava di oscurare la linea di passaggio di Maguire e poi quando andava ad attaccare il gol che fa Scamacca lo deve tanto a Frattesi che stava già dentro l'area e l'altra occasione che hanno simile Frattesi che liscia lui c'è sempre lì e allora mi viene da pensare che è proprio il giocatore perfetto per quel tipo di calcio che stiamo vedendo adesso delle mezzali anche l'Arsenal gioca così cioè, Odegaard da una parte e addirittura Avers dall'altra hanno fatto praticamente le mezzali che sono dei giocatori che si affiancano alla punta cioè, chiamateli come volete mezzi esterni sì, sì e mi piacerebbe tanto vederlo costantemente in quella posizione grazie a tutti grazie a tutti